Siamo, vedo Sommigli pronto, attenzione no niente, sta spostando la boa di inizio per quanto riguarda il percorso arancione, arancioni aspettiamo ancora un attimo con Pia Summer insieme a Sepania, allora pronti, sento il rumbo quindi dovrebbe essere già stata fatta la scelta per quello che è il percorso in questo ultimo round, via via, partenza, partenza dove sono? Eccola qua, dalla parca nostra, l'avancione, via via, no no, Stefania, Stefania a terra, attenzione, forza ste, dai dai, avanti, 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 avanti e vince, via Summer passa il turno più tardi per il confronto tra gli sconfitti e allora andiamo avanti con sempre le ski ovviamente dovranno scendere in acqua ora ai nostri due portacolori Balser e Monti, Balser numero 22, Monti numero 30, partenza partiti, partiti, partiti dalla parte nostra, dovrebbe esserci Monti, Monti ma sono alla pari, forza ragazzi, si torna, si torna indietro, avanti leggermente Monti, attenzione, sta per tornare però sotto Balser che comunque ha saltato la prova Balser, vince la prima sfida Monti Monti, Monti, Monti sta recuperando, vai indietro, ancora Balser, ancora, ancora, ormai ci siamo, Balser, uno a uno Monti sul bianco, c'è quello bianco, Balser, parte della boa rossa e pronti per la sfida finale, attenzione, ecco a comunque vada poi alla fine dovremo fare una sfida Italia contro Francia Balser verso l'inizio del percorso, via, partenza, 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 Balser, Balser dalla parte nostra ancora Monti, lungo, lungo sulla boa, attenzione, rientra, rientra anche Monti, però velocissimo, rientra ancora Monti, Balser portenza, piqué, partenza manca, aspettiamo, ancora Calipa e Vecco, aspettiamo, partiti, attenzione, dalla parte nostra, Tepi, che sta forzando, sta forzando, attenzione, sono alla pari, il giro di Boa, si torna indietro, si torna indietro ancora, organismamente, Martis, staff, attenzione, ancora Luce, formano, scelto, forza in uno scenario davvero incredibile come qua, partezza valida forza Steffi ancora ancora avanti e qua ci siamo, ci siamo, sono praticamente alla pari, si torna, si torna indietro ancora Steffi Steffi avanti attenzione, forza ragazze dobbiamo farci sentire chi è? 22, Spagna è qui, dov'è il pubblico? non può perdere dai, dai dai, dai avanti, avanti, ce la facciamo ce la facciamo ce la fa e vince uno, uno uno, uno dai, ce la puoi fare pronti ragazzi attenzione, mi raccomando dov'è il pubblico? dov'è il pubblico? e dobbiamo farci sentire attenzione ci siamo occhio ora dai Ale, dai Ale vai, 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 vai avanti, avanti avanti dai Ale, dai due, due, sì, sì no, soppari, avanti, avanti Alessio e avanti e avanti e avanti vince ovviamente anche Jeremy Peresta non ce ne voglia ovviamente sì, dobbiamo aspettare la finale dov'è Alessio? Alessio fatti vedere grande è contentissimo Alessio complimenti anche a Jeremy Peresta davvero siamo in Italia occhio di riguardo per i nostri più che dolorosi allora intanto siamo pronti per Antonio dove è Antonio Dalma? che deve scendere in acqua per la sfida contro per il terzo e quarto posto non so sto scendendo ecco la moto di Schintu si scambiano i numeri io non ci sto veramente ma non si trova con la Kawasaki Peresta sul rosso e Dharma sulla parte bianca ci siamo partenza partenza Ceremì per la parte nostra con Dharma Antonio dalla parte del bianco ancora ancora Ceremì mamma mia Ceremì paura Ceremì all'attacco è davanti è davanti davanti Ceremì Peres 1-0 per la nostra forza ragazzi dobbiamo farci sentire vai Antonio vai vai Antonio dai ci siamo ci siamo largo 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 Antonio largo largo non so chi è davanti vediamo vediamo leggermente Antonio no 3 sfide ci siamo partenza partenza Amantini Amantini forse leggermente davanti Amantini ma attenzione a Schintu Schintu sta recuperando si torna si torna sono là sono là attenzione forse al foto fidu ci vediamo Gianluca la parte del bianco vediamo all'algino eee forse Schintu Schintu è leggermente leggermente avanti Schintu attenzione meravigliosa ci chiedevamo prima di tutto buonasera a tutti ci chiedevamo ma riuscirà la serata riuscirà questo evento la risposta è sotto gli occhi di tutti do dieci a questa serata mi auguro che le persone che sono qui si stanno divertendo e che si divertiranno anche in sedi grande lavoro ovviamente da parte di tutti per organizzare un'investazione così ma ce l'avete veramente fatta si guarda grande lavoro però quanto il lavoro ti porta a questi risultati per il mega lavoro perché c'è grande soddisfazione volevo ringraziare in particolare ci sono tante persone che vorremmo ringraziare però vorremmo ringraziare in particolare un componente del nostro gruppo che è un bel gruppo un gruppo coeso un gruppo dinamico però in particolare vorremmo ringraziare il nostro assessore al turismo già di pronto perché tra di noi è quello che tutti ha dato per fare che questo evento fosse così in questa maniera sindaco grazie da parte mia ma penso da parte di tutti veramente grazie e che possa non so possa durare nel tempo questa bellezza noi ci stiamo impegnando per ripeterlo il prossimo anno ci auguriamo logicamente di ripeterlo di migliorarci se possibile e ripeto grazie a tutti voi grazie a chi ha partecipato e un buon divertimento a tutti grazie 3.60 di nuovo che è successo il 3.60 senza mani gloria acce incredibile che è qua vicino a noi il fratello della parte opposta sta avvicinando no non so non ha fatto tutti e due e vediamo di nuovo freestyle ancora sempre per gloria attenzione attenzione a roberto a roberto oggi non è stato male la buona sessione per la mancia e intanto entra Naz Floriancic insieme al nostro variani comincia il nuovo show la nuova sessione dai rovi vediamo chi riesce entra il russo il russo è fortissimo anche lui che cosa ha fatto mariani ha lanciato di tutto e white flip gloria agisce grazie all'altra parte stanno entrando altri due abbiamo detto c'è il russo in acqua vediamo sta perso dovrebbe essere arrivato a casa per vogliari eccolo lì back flip di roberto grande rovi dai diventa difficile veramente di nuovo back flip è dell'altra parte non so chi è da questa parte la parte nostra vediamo 360 ma non chiuso proviamo proviamo ci siamo ci siamo vediamo chi è il primo back flip di nuovo al centro stanno uscendo qualcuno stanno uscendo vediamo vediamo guardiamo avvi back flip doppio back flip doppio doppio back flip ancora ancora back flip mamma mia manero da manero da rock da qui su manero da staccando la mano con un 360 back flip dall'altra parte il russo si sta scatenando alberto alberto dai vogliamo vedere dai eccola là che è back flip quasi staccato ma back flip di nuovo di nuovo attenzione attenzione rock di tempo back flip da tutte le parti rock in russo stop berczek vi voglio sentire pubblica di di gol faranci continuano lo show con il back flip attenzione fuori fuori era previsto il back flip signori attenzione voglio tutti ragazzi dove sono gli smile dentro mariani nomi dai scendi di nuovo vogliamo salutare tutti insieme è terminato il tempo ovviamente lasceremo lo spazio al nostro visei Simon che ci accompagnerà a questa notte di farla ola signori la battuglia della cristale eccovi qua che salutiamo grazie allo per la stessa stiamo che non vogliono andare stiamo mettendo vado a vado a vado vado non se ci facciamo sentire qua e allora facciamoci sentire novi 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 attenzione alla moto di novi arriva l'intervento subito ragazzi dove sono sovi sovi accompagnami qua roberto a l'intervento Grazie a tutti.